come dopo il primo turno mario draghi si guarda bene dal commentare il risultato dei ballottaggi che ieri hanno certificato il crollo delle forze sovraniste come dopo il primo turno mario draghi si guarda bene dal commentare il risultato dei ballottaggi che ieri hanno certificato il crollo delle forze sovraniste. Quelle che sono in maggioranza, come la Lega. E quelle all'opposizione, come Fratelli d'Italia. L'ex numero uno della BC esegue lo stesso schema di 15 giorni fa quando aveva scelto di rispondere alle agitazioni post-voto imprimendo una decisa accelerazione all'agenda di governo. Due lunedì fa, per dire, anticipò il Consiglio dei Ministri sulla delega fiscale mentre da Palazzo Chigi filtrava l'intenzione di mettere in campo un tabellino di marcia con due CDM e una cabina di regia a settimana, così da arrivare a fine anno con tutte le riforme già incardinate. Ieri lo schema è stato lo stesso, con Draghi al lavoro insieme al Ministro dell'Economia Daniele Franco per riuscire a convocare la cabina di regia su fisco e legge di bilancio già in serata. Alla fine si farà questa mattina, ma è evidente l'intenzione del Premier di muoversi come se le fibrillazioni della maggioranza non esistessero. Oggi pomeriggio, quindi, dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio, che a Bruxelles attendono dal 15 ottobre. Mentre qualcuno ipotizza già per venerdì pomeriggio il via libera alla legge finanziaria. Possibile, in verità che si slitti alla prossima settimana, perché i nodi sono tanti e fortemente divisivi, dal reddito di cittadinanza a quota 100. La linea, dunque, non cambia. Nonostante la consapevolezza che i prossimi potrebbero essere giorni agitati. Dal voto escono vincitrici le forze che più convintamente sostengono l'azione di Draghi dal PD a FAI che con Roberto Occhiuto in Calabria e Roberto di Piazza Trieste mette a segno gli unici successi del centrodestra e questo forse il Premier lo aveva messo in conto. Tanto che nelle ultime ore aveva avuto occasione di ragionare sullo scollamento tra un paese che viaggia verso il 90% di vaccinati e il grande risalto dato alle piazze Novax e Nopas con poche migliaia di partecipanti. A Palazzo Chigi, però, hanno ben chiaro che a questo punto Matteo Salvini può diventare un'incognita. Grazie. 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 Grazie.